Allora ragazzi, prima di cominciare con l'analisi di questa partita volevo farvi due premesse importanti. La prima è che voglio augurare un grosso in bocca al lupo a Ossiman per l'infortunio che ha subito in questi ultimi minuti. Ammetto in diretta mi sono tanto tanto preoccupato, il giocatore è stato portato via subito in ospedale, ha fatto vedere anche il replay, ha preso una botta tremenda per terra con il campo di gioco e mi auguro veramente che non sia nulla di grave, che sia stato diciamo un colpo improvviso che gli ha fatto perdere i sensi e nulla più. Poi sentiremo un po' quali aggiornamenti ci saranno ma è proprio il caso di dire che piove sul bagnate in casa Napoli, ma ne parleremo tra poco. La seconda premessa che volevo farvi è che tra poco, sempre, sarò in live sul sito Viola per la reaction di Benevento Roma. Inizierò verso le 20.40 più o meno per avere 5 minuti di vantaggio diciamo prima dell'inizio della partita, quindi tra poco andatemi a seguire direttamente lì, basta che cercate Gladiatore Games. Lo so, non c'entra niente con il calcio come nome, però era per farvi capire. La partita si sta concludendo adesso, siamo sul 4-2 e devo dire che per il Napoli era veramente difficile fare qualcosa di meglio. L'infortunio che ho già citato di Ossiman è soltanto uno dei tantissimi casi che purtroppo li stanno colpendo e per carità, se da una parte posso essere contento dal punto di vista della classifica, perché comunque abbiamo una possibilità di allungare sullo stesso Napoli, d'altro canto però è evidente che siamo davanti a un caso forse senza precedenti. Anche noi negli anni passati abbiamo avuto tanti tanti infortuni, ma qua il Napoli può veramente schierare una formazione titolare con tutti gli assenti che ha, sia in difesa che centrocampo e attacco, senza contare quelli che magari hanno giocato ed erano un pochino acciaccati, come Koulibaly che è entrato dopo ma non poteva essere certo in forma. Con tutti i titolari sarebbe stato difficile fare il risultato a Bergamo contro l'Atalanta che segna con una facilità disarmante, figuriamoci quando ti mancano almeno 11 giocatori su tutta la rosa che hai. Per questo motivo io dico che il Napoli meglio di così non poteva fare, perché ha fatto due gol, ha reagito dopo l'iniziale vantaggio di Zapata, ci ha provato, però certo effettivamente oggi l'Atalanta ha creato tanto e soprattutto ha segnato tanto, perché non so quanti tiri avranno fatto, però di tiri pericolosi ne conto 6-7, hanno fatto 4 gol, per farvi capire che sono sia forti a livello offensivo ma anche cinici, ed è questo quello che ti serve per vincere le partite, perché si possono anche prendere dei gol, ma se tu ne fai tanti è più facile appunto che riesci a ottenere la vittoria. Sembra un'obvietà, ma fidatevi che in partite come queste si conferma ancora questo mio pensiero. Nel primo tempo la partita è stata veramente veramente noiosa, diciamo che le due squadre si sono annullate a vicenda e si può dire che il Napoli ha fatto una buona partita a livello di copertura difensiva, davanti non è che abbia creato chissà che loro come l'Atalanta, però comunque sono stati in campo bene, non si sono fatti sopraffare diciamo dalla mole offensiva dei Bergamaschi e sono rimasti in campo con la dovuta attenzione. Nella ripresa l'Atalanta è riuscito comunque a sbloccare il risultato con Zapata e di lì in poi comunque il Napoli non si è disunito, ha reagito, ha trovato subito il pareggio con un bel gol di Zelensky, poi se tu segni e dopo tre minuti ti risegnano un'altra volta loro con Gosens, tra l'altro oggi non so quanti gol hanno fatto, tre gol su quattro fatti di testa, se non addirittura quattro su quattro, adesso non me li ricordo tutti, ma no no, tre gol su quattro di testa e questo è un problema che sicuramente il Napoli dovrà risolvere perché non è possibile che ogni colpo di testa in aria rischia di essere un... oppure no, perché il primo e il secondo, vabbè cambia poco, comunque anche quello è un problema che devono risolvere. L'Atalanta si è dimostrata cinica come ho appena detto e spietata in tutte e per tutto e purtroppo continuano a dimostrarsi una squadra in casa quasi imbattibile, a parte diciamo la sconfitta clamorosa contro la Lazio, comunque sono una squadra che quando inizia a segnare, soprattutto quando comincia a prendere fiducia, non li fermi. Poi Muriel è, penso, il panchinaro più forte del mondo perché ha una media, cioè già prima di questa partita aveva una media di un gol ogni 60 minuti, ne ha giocati quanti? 70 e ha comunque segnato e fatto assist, veramente l'attacco dell'Atalanta non a livello tecnico ma di gruppo, di squadra e di qualità è tre migliori in Italia e tre più talentuosi in Europa, a parer mio. Adesso arriverà il fenomeno che dirà, eh, ma il Paris Saint-Germain, ma questo è il quattro. Non sto dicendo i più forti, ma quando sono in partita sono infermabili, del tutto infermabili. Il Napoli ci ha provato, ma quando c'hai mezza squadra fuori e quando loro riescono a segnare ogni tiro che fanno, è difficile riuscire a intavolare anche soltanto una minima reazione. Il gol del 3-2 è arrivato in maniera fortuita, però comunque ha dimostrato che il Napoli ci ha provato, c'è stato un tiro di insignia pericoloso. Comunque le occasioni ce le hanno avute, però in una situazione di questo tipo così complicata, con la crisi di risultati e soprattutto di infortuni, non pensavo appunto che potessero fare di meglio. Poi le partite sono imprevedibili, sappiamo che nel calcio può succedere di tutto. Anche una squadra che non è favorita, come lo stesso Napoli ad esempio, contro la Juve, che aveva tutti gli effettivi, mentre il Napoli gli mancava mezza difesa e non solo, può comunque arrivare un risultato imprevedibile. Infatti oggi ho guardato la partita pensando, testa a vedere che nessuno punta un euro sul Napoli e alla fine vanno a vincere loro. Nel primo tempo si poteva anche pensare a una cosa del genere, però nella ripresa l'Atalanta, corso, corso, perdifiato, davanti hanno fatto dei duetti, dei tiri, dei colpi di testa clamorosi. E riuscire appunto a rispondere colpo su colpo non è facile, perché come ho detto, l'Atalanta magari ci sono quelle partite che non ingrana mai, quelle partite che magari vince anche fortunatamente, vedi con il Cagliari, seppur dopo diverse azioni. Ci sono quelle invece che quando inizia a giocare non si ferma nessuno. Faccio un esempio, non è stata molto simile, però la partita contro di noi è stata, cioè, ha dimostrato come loro si possano svegliare in un attimo e ti fanno in mezz'ora quello che magari non ti hanno fatto nella restante ora di gioco. Con noi, uguale, per un'ora Roma meglio dell'Atalanta, con un gol sopra, buone cose, dall'una a un'ora in poi, in mezz'ora ci hanno fatto quattro gol e ci hanno massacrato. Questa è una qualità utile, però certo, magari devi imparare anche a gestirle meglio dall'inizio, nel senso che è ottimo riuscire a sfogare, diciamo, in mezz'ora quello che si può fare in 90 minuti, però se tu nella prima ora ti rovini il risultato, dopo rimontare non è sempre facile. Però è per questo motivo che l'Atalanta si gioca il quarto posto con noi, per dire, e non il primo posto, perché se riuscissero a giocare bene ogni partita, dal primo all'ultimo secondo, senza fare errori difensivi, allora non sarebbero con noi, ma sarebbero insieme all'Inter e alla Juve come favorite per la vittoria finale. Per questo motivo, diciamo che sono fortissimi, ma non eccellsi. Però, ecco, diciamo che da romanista speravo in un altro risultato. Cioè, diciamo che quando c'è stato un big match non c'è mai stato un pareggio finora. Adesso i primi che mi vengono in mente, l'Inter ha vinto con la Lazio, la Lazio ha vinto con l'Atalanta, l'Atalanta ha vinto con il Napoli, il Napoli ha vinto con la Juve. Non c'è mai stato un risultato dal quale noi potevamo usufruirne da una parte e dall'altra. Comunque, per carità, adesso ha perso il Napoli e noi abbiamo un'occasione importante tra poco. Occhio e concentrazione perché non è facile. Il Benevento, a fronte di limiti tecnici, è una squadra che sa giocare al calcio. Quindi, con attenzione, andiamo lì sul campo e dimostriamo gli quello che sappiamo fare. Poi, la partita può andare in un modo o nell'altro, sperando che non succeda quello che non voglio nominare. Non lo voglio dire. Poi, nella recensione, scoprirete a cosa mi riferisco. Però, ecco, questa partita, appunto, è un'ulteriore conferma che non c'è una squadra che riesce a fare continuità, che ha da avere continuità dall'inizio alla fine perché tutte le squadre di questo campionato hanno avuto almeno un passo falso dall'inizio fino ad oggi. E questo rende la stagione 2020-21, a parer mio, una delle più belle degli ultimi 10, barra 15 anni. Un saluto dal vostro bleditore Gialorosso94. Ci vediamo tra poco per chi vuole assistere alla live reaction di Benevento Roma sul mio profilo Viola. Inizio alle 20 e 40 circa. Un saluto e sempre e comunque forza Roma. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!